Signori, bentornati in un nuovo video flash. Finalmente il regolamento di l'Orkana è stato svelato. La Ravensburger ha finalmente resonato le Quickstar Reuel al pubblico, mostrandoci i vari meccanismi che muoveranno a detta di molti, ne compreso il TCG del 2023. Personalmente ho trovato la spiegazione di ogni singolo passaggio chiara e concisa. Ovviamente non faccio testo per il canale di regolamenti ne ho letti e ne leggo tuttora, ma tra tutti, questo lo ripeto, l'ho trovato più capibile ed intuitivo. E ciò è un bene, dato che uno dei principi fondamentali per il gioco gestito dal duo Raven-Disney era per l'appunto creare un TCG che fosse a misura di principiante, ma rivolto allo stesso tempo anche ai veterani che, attraverso lo studio delle regole, non avrebbero avuto difficoltà a comprenderle. Ed è stato proprio così. Ma come funziona in soldoni l'orcana? Mi serviranno un mazzo con un minimo di 60 carte, con massimo 4 coppie per singola carta, dove sarà possibile includere elementi di uno o massimo due inchiostri, tipo i colori di Magic. I due illuminatori inizieranno così la partita con 7 carte a testa, avendo la possibilità di mulligare una volta per match, cambiando solo alcune delle carte che avranno in mano, pescandone altrettante dal deck. Le carte presenti nel gioco saranno di tre tipologie ed una sottocategoria, rispettivamente personaggi, oggetti, azioni e azioni canzoni. Ci saranno solamente due fasi in questo TCG, iniziale e principale. Nel primo macro step procederete al ripristino delle carte presenti in campo, controllando vari ed eventuali inneschi di effetti e pescando una carta dalla cima del mazzo. Chi inizierà il match per primo salterà quest'ultima fase. Quindi di seguito si entrerà nella main phase, dove potrete giocare carte coperte nella zona calamaio, per creare dell'inchiostro, che vi servirà in seguito a pagare i costi degli elementi che possiverete in mano. Una sorta di mana per Magic, per intenderci. Potrete quindi ottenere punti conoscenza o lore, esaurendo i personaggi sotto il vostro controllo. E per chi gioca a Keyforge, questa meccanica risulterà piuttosto familiare. Infatti proprio come si raccoglieranno ambre attraverso l'utilizzo di servitori nel gioco di mazzi unici più famoso al mondo, anche qui ad ogni rotazione di 90 gradi, il termine esatto sarà questing, corrisponderà all'ottenimento di uno o più punti lore. Quindi si potranno combattere anche i personaggi avversari per mettere i bastoni in mezzo alle ruote alla raccolta di queste risorse fondamentali per l'ottenimento della vittoria finale. Quando si svolgerà una battaglia, i danni rimarranno per il resto del match sul personaggio uscito vittorioso dallo scontro, come per il TCG di Pokémon, mentre colui che avrà perso il duello verrà bandito dal tabellone di gioco. Vincerà la partita chi prima raccoglierà 20 o più punti lore. La dinamica di gioco di questo titolo così atteso sarà semplice e veloce, e personalmente non vedo l'ora di trattarlo in modo più approfondito attraverso un nuovo episodio di TCG in meno di 20 minuti, anche perché il video è già ai posti di partenza, manca solo la materia prima per completare l'opera. E voi approccerete questo gioco da collezionisti o vi diletterete a vestire i panni di un illuminatore? Come sempre fatemelo sapere nei commenti, inoltre iscrivetevi al canale e seguitemi anche su Instagram e TikTok se vorrete scoprire altre notizie provenienti dal crogiolo.